Carissimi fratelli e sorelle, buona Pasqua! Cristo è risorto! San Giovanni Evangelista ci deglito annuncio della resurrezione. Il primo giorno dopo il sabato, il sepolcro è vuoto. I discepoli di Gesù si trovarono di fronte ad una realtà nuova, umanamente incredibile, sconvolgente. La prima è stata Maria di Magdala, che si era recata molto presto con due amiche, portando a Romi per imbalsamare il corpo. Camminavano, ma erano preoccupate. Come poter rimuovere la pietra che chiudeva la sepoltura? Queste trovarono una pietra già rimossa, mentre due angeli, in sembianza umana, dicono loro «Chi cercate? Gesù è risorto, come vi aveva annunziato. Anzi, avvertite i suoi discepoli, perché presto verrà a trovarvi». Pietro e Giovanni accorsero entrambi al sepolcro e constatarono la verità, come avevano detto le donne. La resurrezione di Gesù non è una favola, ma un evento unico e irripetibile. Lo dichiara espressamente anche San Paolo, che prima di convertirsi aveva perseguitato la Chiesa. Se Cristo non è risorto, vane e vuota, è la nostra fede, la nostra predicazione. Sant'Agostino aggiunge «La risurrezione del Signore è la nostra speranza. Gesù è risorto in noi, pur destinati alla morte, non disperiamo, perché come Cristo è risorto, anche noi risorgeremo». La morte, perciò, non sarà l'ultima parola, perché a trionfare alla fine sarà la vita. La nostra certezza non si fonda su semplici ragionamenti o desideri umani, bensì su un fatto storico. Cristo è davvero risorto. La risurrezione di Cristo Gesù è la pietra fondamentale della fede cristiana. Ecco perché il Sinedrio, che aveva voluto la condanna a morte del Cristo, aveva paura di Gesù vivo e anche morto. Di Gesù vivo perché tutti correvano da lui, di Gesù morto perché aveva chiaramente affermato «Dopo tre giorni risusciterò». I sommi sacerdoti e il Sinedrio convinsero perciò Pilato a fare custodire la sepoltura con due picchetti armati di soldati ebrei e romani. Nessuno poteva avvicinarsi per trafugare il corpo di Gesù. Nessuno vide Gesù nel suo risorgere. Gli angeli scesero, tolsero la pietra, ossuirono la sepoltura per dire a tutti «Chi cercate? Cercate il vivo in mezzo ai morti?» è risorto, come egli stesso aveva detto. I discepoli avrebbero dovuto credere alla risurrezione sulla parola di Gesù. Essi invece si decidono a credere solo quando Gesù appare loro, nel Cenacolo. Credono, dopo aver visto Gesù vivo, che esce ed entra a porte chiuse, si ferma con loro e dà le prove più eclatanti della sua risurrezione. Sono costretti dall'evidenza ad accettare la realtà. La risurrezione non è una teoria, è un evento, è una realtà storica già rivelata da Gesù stesso. Gesù mette gli apostoli davanti all'evidenza. «Toccatemi e guardate! Il fantasma non ha carne ed ossa, come vedete, o io!» Paolo di Tarso, l'accanito persecutore di Cristo, sulla via di Damasco incontrò il Cristo risorto e scriverà poi ai cristiani di Corinto esortandoli a restare saldi nella fede ricevuta. «Il nostro cammino, talvolta è frenato, è ostruito da una pietra tombale che bisogna rimuovere. È la pietra della sfiducia, in chi confida solo nelle proprie forze ed è chiuso nel proprio egoismo che non permette di guardare fuori, oltre il nostro io. Talvolta c'è anche una seconda pietra che ferma il cammino, la pietra del peccato, il peccato che seduce e poi lascia solo l'amore in bocca e spinge alla solitudine e alla morte. Il peccato è cercare la vita tra i morti, il senso della vita nelle cose che passano. «È la Pasqua di Resurrezione, amico, che ascolti e leggi. È veramente Pasqua se ti decidi e togli la pietra tombale che non ti permette di guardare la luce divina. Giuda tradì Gesù e disperato andò ad impeccarsi. Pietro rinogò il maestro divino, pianse per il peccato e Gesù lo costituì capo della chiesa. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Ritornare all'amore vivo verso Gesù è essenziale. Allora e solo allora è veramente Pasqua. La risurrezione di Gesù illumina l'enigma umano del dolore della morte. La fede in Cristo Gesù crocifisso e risorto è il cuore del messaggio della Santa Pasqua. La fede in Cristo Gesù crocifisso e risorto è il cuore del messaggio della Santa Pasqua. Ai piedi della croce Gesù ci ha offerto anche un'ancora di salvezza. È Maria, sua madre. Donna, disse Gesù, ecco tuo figlio, Giovanni, l'uomo che ha bisogno del tuo cuore materno, l'uomo sfiduciato ed amareggiato dalla vita, l'uomo vittima della povertà o della guerra aspettata. Maria, rivolgi a noi la tua mano pietosa, soccorrici nelle traverse della vita e portaci a Cristo, frutto benedetto del tuo seno. Carissimi fratelli e sorelle, tantissimi auguri dal canale cristiano e viva Gesù. Auguri di pace, speranza, amore e ritorno sempre a Lui che ha dato tutta la sua vita per noi.